Si è tenuto lo scorso 26 marzo presso gli uffici regionali dell'assessore Fortini l'incontro con tutti i sindaci del piano di zona S8 per valutare la situazione attuale. La riunione è stata necessaria per decidere di attuare un'azienda consortile che vedrebbe la gestione diretta del piano di zona S8. L'assessore Fortini ha sostanzialmente raccontato al sindaco del comune Cavofila e ai sindaci presenti tutto ciò che noi andiamo dicendo ormai possiamo dire da anni. E cioè che la regione consiglia una riorganizzazione dei servizi ripartendo dalla costituzione di un'azienda speciale che in capo alla quale verranno poi incardinati i dipendenti dei servizi stessi. È uno strumento utilizzato ormai quasi in tutti i piani di zona che credo sia la soluzione per quel che riguarda l'organizzazione del nostro piano di zona che come sapete ha una serie di difficoltà. Non voglio neanche entrare più per evitare di fare polemica nello specifico delle colpe e delle responsabilità. Diciamo che il colpevole non ci serve oggi, serve però trovare una soluzione immediata e dare delle risposte a dei servizi che noi dobbiamo necessariamente poter dare in maniera compiuta. Quindi, tolto da parte le colpe e le responsabilità, il futuro qual è? Bene, l'assessore regionale ha spiegato che il futuro è l'azienda, non solo il futuro è l'azienda, ma addirittura la regione prevede per le organizzazioni di comuni che preparano l'azienda una premialità del 20% sia dei fondi regionali che ministeriali e addirittura un finanziamento, una tantum, per favorire la stabilizzazione e l'assunzione del personale a tempo determinato e poi indeterminato. Nel nostro caso, l'assessore ha annunciato che ci sono 600 mila euro disponibili per poter fare queste assunzioni. Ora, è naturale che questi soldi rischiamo di perderli, perché se non si fa l'azienda perdiamo il 20% di premialità, se non si fa l'azienda non abbiamo lo strumento che può mettere in atto le assunzioni e quindi perdiamo anche i 600 mila euro. Quindi i sindaci devono rendersi conto, non per fargli pressione, ma devono rendersi conto che ci sono delle occasioni che rischiamo di perdere, occasioni che il nostro territorio, credo, non si debba assolutamente permettere di perdere. Il sindaco Coppola si è reso anche disponibile ad organizzare un incontro tra i vertici regionali e i sindaci dell'ambito per illustrare i vantaggi della nuova istituzione consortile. Io mi sono permesso di fare un appello al dirigente carigliano della regione, all'assessore stesso, per dire se esiste ancora dei dubbi, delle perplessità sull'effettiva funzionalità dell'azienda. Bene, non il Comune di Agropoli che può sembrare a questo punto di parte. Il Comune di Agropoli mettiamolo da parte. Venga la regione con i suoi tecnici a spiegare i vantaggi che può portare questa nuova organizzazione e in questo modo faremo anche chiarezza su tanti dubbi e tante perplessità che forse tengono sotto scacco questa decisione. Quindi mi auguro che presto la regione stessa ha dato la sua disponibilità a venirci a trovare nel Cilento per spiegare i vantaggi dell'azienda. Mi auguro che presto questo succederà e così tolti questi dubbi e questa perplessità andremo finalmente nella direzione che noi tutti quanti auspichiamo.